Per noi è un motivo di soddisfazione e di orgoglio ospitare questa grande manifestazione che richiama gente oramai da più parti, con espositori che vengono da tutta Italia e con un'esposizione di grande qualità. Di questo ringraziamo naturalmente gli organizzatori ma anche la signora Macchiaroli che ha messo a disposizione questa splendida struttura che sembra fatta apposta per ospitare situazioni di questo tipo, nel solco di quello che vogliamo che Teggiano sia per il futuro, cioè la città dell'arte e la città della cultura. La mostra di Antiquariato va in quella direzione, noi speriamo che possa essere fruita in questa edizione da tanta gente, dalla provincia di Salerno, da Napoli, da tutta la gente innamorata dell'Antiquariato. Noi da sempre abbiamo partecipato a questa manifestazione, tra l'altro dobbiamo anche dire simpaticamente che ci ha portato fortuna, siamo stati chiamati, così possiamo dire, da Angelo Sabinit qualche anno fa, tanti anni fa e abbiamo partecipato. Riteniamo che questo sia un evento importantissimo per il Vallo di Diano, anzi forse per il sud addirittura perché è unico, è unico nella sua specie. Poi farlo qui a Teggiano in questa meravigliosa cornice che è il castello, beh è importante, l'abbiamo voluto con forza quest'anno per la verità, si è rischiato di saltare questo numero, però insieme anche alla proprietà del castello si è deciso di rifarlo al castello per dare importanza, certamente al castello ma all'intero centro storico di Teggiano su cui la banca ha intenzione di investire nel proprio futuro. Quindi è l'occasione buona per ancora confermare la nostra presenza a questo evento ma soprattutto per dire al popolo di Teggiano che la banca Montiprinuncei e che ci tiene molto a Teggiano e al centro storico di Teggiano. Siamo molto contenti che Teggiano Antiquaria sia tornato al castello perché in effetti la mia manifestazione si era tenuta qui nel 98, poi è stata assente per 5 anni e questo ci ha dato la possibilità di lavorare e continuare i nostri lavori di strutturazione per cui abbiamo lavorato molto con l'abbattimento delle barriere architettoniche, abbiamo lavorato gli interni, le decorazioni e vogliamo che il castello sia un contenitore per manifestazioni di varia natura, di carattere culturale, di convegni, di conferenze, di manifestazioni più ludiche. L'importante è che diventi un centro vitale e che tra l'altro noi siamo fortunati perché siamo in un paese meraviglioso, ricco di chiese, di storia, di monumenti, di persone che conoscono l'accoglienza e quindi l'obiettivo noi di tutti quanti insieme è di portare Teggiano del mondo e fare sì che vengono sempre più turisti ad apprezzare le nostre bellezze. Certamente questi momenti sono di grande interesse culturale, storico e ci aprono anche a una considerazione del nostro passato e ci permettono di pensare insieme delle opportunità per il nostro territorio. Ritornare là dove è incominciata è sempre un piacere. Indubbiamente comunque la manifestazione per essa oramai ha preso tutto lo spazio necessario, sufficiente, non solo a livello regionale. Io parto dalla regione perché oramai a livello provinciale è dato per scondato, ma anche nazionale e anche oltre quelle che sono i confini dell'Italia. Abbiamo un piccolo problema. Qual è il problema? Il problema è che in questo ultimo periodo abbiamo delle richieste di molti restauratori che chiedono giovani per poterli avviare su questo percorso, per poterli avviare su quelle che sono le manualità del recupero delle opere d'arte che ce ne sono tantissime. E qui noi cogliamo l'occasione per dire che la bottega scuola finalmente da parte della regione Campania è aperta per cui i maestri artigiani, cioè tutti i restauratori che hanno un know-how, che hanno un'esperienza possono rivolgersi presso la nostra struttura per poter avere questo riconoscimento di titolo di maestro artigiano e quindi aprire poi successivamente il bando, diciamo, partecipare con la regione Campania affinché possano prendere degli allievi a costi molto molto contenuti perché è previsto sia un contributo per quanto riguarda il maestro artigiano e sia per quanto riguarda ovviamente l'allievo al di là di quelle che sono poi le fiscalità agevolatissime.